e benvenuti ragazzi benvenuti in questo magnifico unboxing e andiamo a scoprire insieme stiamo parlando quest'oggi come avrete già visto dal titolo del galaxy watch 4 44 mm lte come potete vedere dalle caratteristiche dietro abbiamo appunto la ricezione 4g lte veduto wifi gps e il 44 mm quindi la versione più grande rispetto al 40 questo è il dispositivo andremo a vederlo bene dopo nel dettaglio con una prima diciamo accensione vediamo cosa c'è nella scatola credo che non ci sia nulla qui ok dovrebbe essere vuoto e la confezione invece è qua ok molto ben fatta comunque la confezione apprezzata e anche stilosa diciamo ok e lo scomparto giusto diciamo abbiamo il cavetto tra l'altro non ci sono pellicole da togliere quindi malissimo questa cosa male no non è vero un po di plastica in meno va bene va sempre bene ok questo qui il caricatore usb va bene abbastanza classico e questo qui è chiaramente dove dove doveva attaccato ecco c'è la pellicolina doveva attaccato il appoggiato scusate il lo smartwatch ok perfetto abbiamo anche questi signorini qui eccoci qua perfetto direi che ci siamo vediamo il cavo cavo dire abbastanza lungo per essere uno smartphone c'è lungo forse anzi molto probabilmente di molti molti tablet che ho visto diciamo e vediamo ancora se c'è qualcos'altro di utile questo è uno spazio e queste sono la questa la manualistica non c'è non c'è nient'altro quindi direi che possiamo passare alla alla prima accensione del dello smartwatch ok c'è un po di pulizia magari pulizia effettuata ok come vedete abbiamo ho visto che ha il dalle caratteristiche anche il sensore del ossigenazione ossigenazione nel sangue dovrebbe accendersi con questo tasto suppongo ok a occhio schermo e amoled ma tendenzialmente penso che siano tutti amoled i smartwatch in generale molto piacevole al tatto il cinturino bisogna dire e aspettiamo che si accenda magari benvenuto benvenuto beh insomma parla parla la mia lingua diciamo mettiamola così iniziate l'applicazione interessante iniziate l'applicazione quindi bene per il primo avvio bisogna andare sul telefono peccato che stia firmando va bene dai diciamo che per il primo per le prime impressioni sono sono queste non diciamo non 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 mi dilungherò oltre anche perché siamo già a quattro minuti di unboxing e ci ci vediamo per prossimi news sull'ipad anche che appunto devo ancora fare dei video sull'ipad ma quando avrò tempo e dei video più approfonditi sull'ecosistema Samsung che ormai comincia a essere interessante soprattutto sul su questo smartwatch ciao ragazzi